ehi la ciurma io sono mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di expeditions conquistador tanto per cambiare non mi ricordo più che cosa stavamo facendo dovevo tornare forse alla alla caverna alla caserma abbiamo anche della roba da investire allora non vi vogliamo lasciateci in pace aia commercia con loro cosa vogliono darmi volete delle medicine dai possiamo farlo tanto qua abbiamo bisogno di tesori oltre ogni modo praticamente oltre ogni umana ha ragione allora tu conserva come se non ci fosse un domani voi altri gacciate fate disfate carne a tutti no allora 7 di medicina 10 unità di carne 10 non è il massimo ma speriamo di reggere ancora un po intanto mi sono informato sulla caserma sulla fortezza e non è che sia tutto sto po po di roba comunque penso che è un upgrade penso che da essere dei bonus più succosi invece in realtà cioè da qualcosina ma non è niente di eccezionale la caserma serve per parti della storia quello si ma il resto è tutto più o meno poco interessante è tutto poco interessante niente torniamo qua speravamo di lasciarci ruiz qua invece no ci è rimasto solo un attimo adesso c'è un bert ah alle caserme com'è che abbiamo sembra apprezzare la possibilità di dormire l'ho letto vero fa un conteggio degli uomini 20 soldati ok allora espandi la fortezza allora le cose che erano interessanti da quello che ho visto erano allora magazzino ci permette di lasciare delle risorse qua quindi evitando che ci vengano rubate per cui tipo adesso che abbiamo un sacco di legna, metallo, corda e olio possiamo lasciarlo qui e anche di razioni possiamo lasciarle così evitiamo che ci spariscono insomma perché più il numero è alto sembra, almeno quello che ho visto io, più te le rubano facilmente per cui se ne hai tante te le ciulano la cappella ti permette di pregare con i tuoi, se fare guadagnare morale i tuoi seguaci pi che non è male però neanche sta esagerazione, vabbè costa solo 500 la taverna permette di reclutare anche un nuovo personaggio se non ricordo male, mercato puoi comprare le cose la bottega non ricordo più puoi comprare degli oggetti costruiti se non sbaglio e la stalla non so inizierei comunque con il magazzino che è quello che mi sembra che per ora possa servire di più così possiamo lasciare un po' di cose 5 giorni 2000 preziosi, eh sì così potrei conservare i tuoi risorsi all'interno della fodertezza lo dice, mentre invece qua una stalla cosa che dice? raddoppiare le mosse a tua disposizione nel giorno in cui la visiti per cui è molto circostanziale cioè che quando veniamo in qua poi dopo ci mettiamo meno a tornare indietro, ma vabbè cioè cambiamo i cavalli praticamente, è un po' come un laghetto facciamo il magazzino sì è arrivato il momento di mettere nuovo quei vecchi spazi, inizieremo immediatamente ok non so se aspettare, abbiamo degli altri soldi dopo, no? non abbastanza neanche per farci la cappella allora scendiamo in giù di qua, la nostra missione adesso ci diceva di andare a distruggere Quautitlan, sì e dovremmo andare là a picchiare, mi sa che non ci arriviamo in questo episodio comunque cioè potremmo farcela, ma poi dopo l'episodio diventi lunghissimissimo allora qua comunque maialini mai più neanche in mezzo allora che passiamo sulla strada maestra per far prima spingiamoci un po' in qua c'è nulla allo stesso allora erboristiche abbiamo ancora parecchie erbe comunque nonostante tutto una di carne a tutti è il prossimo uh, la pattuglia ha trovato quattro di medicina, ottimo siamo messi come per la medicina? 88, dai qualche giorno ancora siamo a posto eeeh niente, ma tra l'altro le missioni quelle dei kern no, non voglio questo eeeh, le missioni quelle dei kern ci mancano due kern dei sentieri e ci mancano quasi tutti quelli delle montagne potrebbe, cioè dovrebbero essere tutti in questa zona qua probabilmente quelli del montagne o anche la sotto qua uh comunque prima o poi li troveremo bisogna andare di questa direzione no, questa ci riporta a eeeh Xalapa, ma dove andare a Xalapa, scusatemi vediamo no, ok, dove andare giù sotto andiamo giù sotto di qua allora sì sì, è giusto perché ho il tizio leggermente spostato di lato allora lo vedo un po' storto rispetto a com'è la situazione vediamo se poi ci danno qualche uno di olio, buono due di olio, buono ma alla fine che ci rubano tutto qua allora, se parliamo con la tizia ci dirà ehi, non ho niente a dirti, ciao infatti allora, vediamo un po' se qua hanno una richiesta normale di medicina eh no un bel po' di quelle ventuno ok, altri trecento possiamo prendere i preventi di medicina va bene così almeno ne abbiamo poi la sufficienza per poter fare la cappella oppure comunque per una base di partenza per che cosa potremmo fare la locanda costa 1000 ah, vediamo di qua se troviamo qualche maialino per caso no, niente sì, facciamo anche fare il giro largo magari così almeno non troviamo gente sulla strada e magari troviamo delle erbe o allora la pattuglia continua a non trovare niente e la caccia continua a cacciare solo 10 non è una cosa eccezionale l'avere tutte queste persone seguito fa sì che consumiamo sempre più di quello che cacciamo ci arriviamo qua mi sa di no no, mi hai fatto qua invece vedo una cassa andiamo in qua dai anche se in realtà non serve a niente la cassa perché ci abbiamo pieno di robe però magari vedevamo qualcos'altro no uno di carne tu continuo con le tue erbe che scenderemo sotto quota 100 mi sa 10 di carne siamo 119 infatti ho bisogno di altre erbe poi continuo a vendere erbe ah, eccole ho appena chiesto olio adesso siamo pieni di olio in passato non ne avevamo adesso ne abbiamo un sacco ma mi sa che abbiamo fatto anche tutte le lanterne che ci servivano sì non so se ha senso fare altre lanterne in questo momento poi potrebbe servirci per altre cose e non ce le abbiamo più andiamo a prendere quella cassa no non so se ha senso prendere quella cassa ci sono delle erbe per caso di qua non che si vedano torniamo di qua allora dai accampiamo sempre solo 10 abbiamo trovato sempre solo 10 troviamo eh proprio andremo a scelere sotto quota 300 con la carne ecco che arriva il maierino bravissimo un altro no direi avviciniamoci otteniamoci la vista ma lo prendiamo domani quello eh poi c'è l'altro qua in giro no accampiamoci ah 1 di carne a tutti quanto ce ne abbiamo da conservare ancora 12 buono allora mettiamo il nostro non abbiamo una allora facciamo 8 e 4 12 per cui mettiamo lui e il nostro pattugliatore ci hanno rubato 2,23 di legname però abbiamo trovato 15 di carne che è molto buona ok altra carne splendido sono dei tesori oh si e non li avevamo visti forse non eravamo passati da questo lato di qua 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 titlan avviciniamoci di qua ok così almeno 1 unità di carne a tutti ok e poi abbiamo da conservare 13 quindi non tu ma 1 da 5 non ce l'abbiamo mettiamo al posto che lui che facciamo cacciare mettiamo 1 da 9 allora cioè anacaona così vengono conservati esattamente tutti eh medicina abbiamo ancora bisogno si ancora stanotte e non scendiamo sotto quota 100 di erbe perché le abbiamo appena prese uh 15 unità di carne è ancora splendida eh niente in realtà mi sa che lo iniziamo l'evento qua sono trascorsi giusto 12 minuti ah posso liberare il giaguaro in città oh facciamolo mi sa che è l'unico motivo per cui può tornarsi utile ok ti incontri con il guerriere di xalapa fuori dalla città e le informe dei tuoi piani i guerriere di t'ipicteton circonderanno la città per accertarsi che nessuno possa fuggire la tua compagnia porterà la gabbia del giaguaro in città la aprirà e arretrerà una volta che il mostro avrà avuto la meglio sugli ignari abitanti entrerete in città e spazzerete via i superstiti mentre i guerriere di xalapa saccheggeranno gli edifici speriamo poi dopo riusciamo ad averla meglio anche del giaguaro se per se sopravvive i tuoi servitori trasportano nervosamente la gabbia in città coperta da un drappo pesante mentre gli abitanti guardano l'oggetto con curiosità i servitori si fanno forza scoprono rapidamente la gabbia e la aprono per poi darsela immediatamente a gambe il giaguaro reagisce come ampiamente prevedibile con una fura inarrestabile le urla durano sorprendentemente a lungo finchè non intravede il gigantesco felino inseguire un tiratore e la sua famiglia terrorizzata oltre i confini di Quautitlan fin nella giungla ovest i tuoi uomini impugnano le armi e si preparano ad entrare in città per spazziare via ciò che resta dei guerrieri nell'insegnamento quindi in realtà il giaguaro l'abbiamo perso per sempre adesso eh sì pronti così aspetta no mi ha preso un guerriere di più ero iro enes non la voglio voglio il medico or velasquez 6 su 6 perché cos'è che stavo prendendo esploratore c'è verri ho due soldati e un esploratore sì Ortega no Ortega fa più schifo no prendiamo iro enes avevo tolto tutto a a a Ruiz però ok iro enes a 30 meglio iro enes ok ok allora non è non sarà facile 4 6 8 usiamo qualcosa cosa possiamo equipaggiare e dove potrei fare tre barricate qua dietro e le trappole di aculei da questa parte mi sembra ottimale facciamo così tanto materiale ne abbiamo loro correranno in modo sconclusionato verso qua a no sono nove ok ancora meglio che ne abbiamo messo tutta sta roba si è fermato appena prima l'el ma io non avanzo mica sa visto che abbiamo barricato dietro per forza ci vengono in questa direzione cioè potrebbero passare da dietro ma ci metteranno tanto tempo a sfondare anche il resto chissà che se non avessimo liberato il giaguaro quante roba avremmo avuto da tirare giù allora voi riuscite a prendere qualcuno questo si lui non lo vede però aspetta spostati un passo indietro così magari l'altro vede ok tu vai qua dietro ma cosa ho fatto difesa perfetta non so neanche quanto abbia senso in questo momento mi ha fatto una maledizione una maledizione cavolo non vuole ah quello che fa gli attacchi ad aria mannaggia lui abbiamo una lanterna però in casa ancora basta oh ma avanzate o no ma avanzate o no porca di una miseria ok andato vai a curare quell'altro che si è mezzo massacrato le lanterne le lanterne posso usarle non molto in realtà mi conviene usarle più avanti allora vai vai ok per fortuna avevo paura che fallisse tutto niente tu andare non puoi andare aspettiamo che arrivino facciamo difesa perfetta a sto giro però mi sa che ci tirano giù addosso qualsiasi cosa anzi voi arretrate di uno quello va a curare mi sa di sì no non arriva in tempo ah ciao no stordito Mareu non ci voleva che fosse stordito allora a quello non lo vedo tu lo vedi no c'è l'altro in mezzo aspetta tu spostati un attimo non puoi fare niente vai qua sparati torna qua vai qua secco torna qua ah no l'altro fu scusa colpire con il coltellino aspettalo tu vai qua tiro il coltellino tu cura e torna indietro non gli togli la maledizione ma almeno è un po' più opposto e loro due ancora non stanno benissimo ma almeno la situazione si è ristabilita un po' ahia ancora non penso che lo vedessero l'altro verso la casa devo andare a curare assolutamente lui perché non è messo benissimo anche il tizio non è ristabilita ancora basta la volete piantare con sto poveraccio qua eh ristabilita ma non è curata poi più di tanto guarda su questo ecco ma basta questo bloccato ma da dietro puoi sprenderlo no? si aspetta facciamo così e così ok ciao grazie di tutto così magari sono anche più invogliati da prendermi di sotto lol ha cercato di tirar su uno dei suoi probabilmente cavolo no avanza ancora di uno porca miseria niente bravo ciao ne ok l'abbiamo sfruttati tutti bene ma ancora basta avete ancora qualcun altro ma sono arrivati solo loro 4 però per fortuna cavolo ci sta crepà allora vai a curare quello vorrei visto che quello è messo peggio cioè l'altro era messo peggio ma non è avvelenato almeno allora aspetta facciamo che tu che hai un sacco di movimento no non posso andare a prenderlo da dietro perché quello ha un sacco di roba di movimento allora facciamo così intanto stordisci questo ok così l'altro non si prende l'attacco di opportunità se andiamo a picchiare tutti e due su questo ah aspetta aspetta tu lo vedi di qua no di qua si spero meglio tu lo vedi qua no qua no qua si basta ma puoi smettere di bloccare tutto porca di una miseria hanno agito tutti mi sa non posso far più molto altro no cavolo questo me lo tirano giù no non lo tirano giù oh si pure storpio pure verena tutto insieme viva poveraccio ah tu vai a ristabilire questo poveraccio qua che se no ci lascia le penne eh non è che li abbiamo ristabilito molto però meglio che niente allora voi riuscite a tirare giù questo qua per piacere no oh è duro su qua eh come è mancato pure ma che cavolo oh questo è già attaccato no cosa ha fatto questo niente ha estordito e rischia di rischiamo di perderlo lo stesso e rischia di rischiamo di perderlo lo stesso possiamo ancora tirarlo su allora vai a curare tu riesci vai fammi so piacere allora tu vai qua e picchiolo di qua tu vai qua e picchiolo di qua ok e tu riesci ad andare addosso all'altro a stordirlo no però mareo tu quanti movimenti hai ancora signor camminatore vai tu riesci a prenderlo da qua da qua no e lui non ci arriva vabbè meglio di niente vada dai che sono andati ok vada ho perso un po' di occupaggiamento ma non è grave i guerrieri guarda di i squint li combattono duramente ma quando i tuoi uomini li sconfiggono appare evidente che nonostante le dimensioni di kuoti di tran questi erano gli unici combattenti capaci a disposizione i tuoi alleati di totonaki invadono la città senza incontrare una vera resistenza uccidendo solo qualche civile disperato che decide di mettersi in mezzo tutti gli altri sono radunati nel centro della città cosa dobbiamo fare con i spravvissuti onorevole Julius Mazzatez molti di loro sono molto malati nessuno rappresenta una vera minaccia io li torrei razzisti due uomini perquisiscono rapidamente i guerrieri uccisi trovano qualche pezzo di equipaggiamento riutilizzabile qualche razione di cibo nella capanna delle tre capotebù viene rinvernato qualche nino prezioso di oro e giada con decorazione di perle poi siete pronti di ripartire per cui allora sposterei solo un attimo l'equipaggiamento chi l'ha perso allora lui uno e lui uno qui Eceverria ne ha perso ah Ortega togliamone un po' Eceverria ha perso e chi ha altro venti venti quindici no ok ridiamola Ortega io vi ringrazio per la visione ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti buona giornata